Musica Misuriamo la velocità del suono in questo modo. Utilizzeremo due registratori, uno agganciato al segnale B di questo oscilloscopio digitale, uno agganciato al segnale A. Abbiamo messo i due microfoni distanziati di 3,30 metri circa, proprio per avere anche un risultato con un numero tondo. Proviamo a provocare un rumore secco facendo urtare due legnetti e a vedere la distanza nel tempo tra i due segnali registrati dei due microfoni. Mettiamo in attesa l'oscilloscopio. Possiamo vedere che il primo segnale, quello blu, si differenzia dal secondo segnale e questo riferimento indica l'inizio del primo suono, questo riferimento l'inizio del secondo suono e vediamo che è circa un centesimo di secondo, vuol dire che la velocità del suono la misuriamo come circa 330 metri al secondo. Grazie. 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 Grazie.